ciao elisa ciao max come stai bene dai una bellissima giornata emozionata un po abbastanza dove siamo oggi siamo a venezia ai giardini in una serra meravigliosa e cosa di bello questa serra a di bello che è un pezzo unico recuperato dopo anni e anni di disuso è una serra di fino ottocento in ferro battuto e dentro ed è stata recuperata 7 8 anni fa da una cooperativa che la utilizza come sia come bar come luogo d'incontro ma anche per la venita dei fiori senti una cosa elisa è da un sacco di tempo che volevo dirte dall'ultimo spettacolo sono a fare qui al marino ma mi vuoi sposare ci devo pensare un po ci devo pensare un po e sai com'è dobbiamo parlare con mio figlio ma era un secondo marito